cari amici del dome buongiorno benvenuti o bentrovati sul canale buon martedì oggi si ritorna a parlare di fumetti ovvero dell'ultimo numero di tex eccolo qui il titolo è fratello di sangue siamo arrivati al 752 chiaramente parliamo fumetto bonelli da 4 euro e 90 ecco a voi la copertina la costina è in quarta di copertina abbiamo la pubblicità dell'uscita del 22 giugno del texone non vedo sinceramente l'ora di acquistarlo il numero 39 per l'onore del texas eccolo qui ovviamente diamo un'occhiata anche ai crediti soggetto e sceneggiatura ovviamente abbiamo giorgio giusfredi in questo testo in questo albo autoconclusivo giorgio giusfredi oltre ad essere una persona molto simpatica e capace anche uno dei migliori nel modo di vedere sceneggiatori nella bonelli ai disegni abbiamo alfonso font la copertina e del solito maestro claudio villa il lettering è di renata tuis per quanto riguarda la seconda di copertina abbiamo una pubblicità dell'altro tex le grandi storie bonelli cercatori di piste eccolo qui è in terza di copertina abbiamo la pubblicità del numero 753 il nome è wolf one è vivo eccolo qui ragazzi in uscita il prossimo mese ovviamente parliamo del 7 di luglio allora ragazzi beh il titolo è molto emblematico fratello di sangue non appena l'ho acquistato ho subito pensato ad una storia prettamente indiana e diciamo che un attimo azzeccato è il protagonista senza ombra di dubbio a parte chiaramente i vari tex e carson è soprattutto tiger jack perché è lui il protagonista perché insomma in questo albo si divide in tre parti ecco chiamolo così inizialmente da dove parte la narrazione è una sorta di eroe per il giovane naiati un ragazzino chiaramente parliamo di una vios un ragazzino che poi insomma da in avanti purtroppo per lui troverà la morte quindi insomma inizia come una sorta di una sorta di leggenda come appunto tiger jack nella seconda parte ovvero la metà del testo diventa una sorta di dottore quando aiuta una ragazza che lui chiamerà capelli color sole eccolo qui eccola qui la ragazza che secondo me penso che si sia un po anche innamorata si sa forse anche un pochettino innamorata e nella parte finale con questa ultima pagina tiger jack mostra un po a tutti quanti i lettori e questa sinceramente mi mancava come lui è diventato fratello di sangue sia di tex che di kit carson praticamente avviene nel momento in cui tex è costretto a affrontare l'uomo più forte della tribù comandata da cervo forte allora si sa insomma sia tiger jack che kit carson li dicono più di una volta guarda che è una trappola lui sa della trappola e dice ok eventualmente mi succedesse qualcosa mio figlio è il resto della carovana sono in buone mani ed è qui insomma che diventano fratelli di sangue la storia è molto molto classica classica texana con con tex e compagnia cantante che devono proteggere una carovana di svedesi che vanno verso l'oregon una carovana che è stata presa in giro da quattro da quattro elementi due mandriani e due chiamiamoli così cavalieri che li dovevano difendere ad eventuali attacchi da parte degli indiani vengono presi in castagna però ovviamente tex kit e tiger jack riescono a trovare la carovana trovare la mandria rubata e soprattutto accompagnarli accompagnarli lungo il viaggio un viaggio molto difficoltoso soprattutto ricco di ricco di colpi di scena con gli indiani appunto di cervo forte che cercheranno in tutti i modi di ucciderli beh ragazzi che dire di questo albo letto ho letto soprattutto sentito pareri discordanti c'è chi lo ha dato chi un po è rimasto deluso io vado un po nella via di mezzo non è la lettura del secolo ma nel modo di vedere non è neanche troppo stancante diciamo che ci troviamo di fronte come ho detto ad un classico albo di tex diciamo che qui giorgio giusfredi come dire gioca molto al sicuro ecco una storia classica di tex su tex va sempre a me sinceramente non è dispiaciuto come ho detto non è la lettura del secolo però abbiamo modo di vedere una lettura che molto molto rapida molto veloce non è per nulla prolissa quindi già qui abbiamo modo di vedere è un punto di vantaggio e in più ripeto c'è la chicca finale che insomma mostra chi non lo sapesse come i tre sono diventati appunto fratelli di sangue per me che non l'ho mai visto può essere è veramente una una gran bella cosa perché io pensavo che fratello di sangue fosse soltanto tex con tiger jack invece c'è anche il kit castle quindi nel modo di vedere è una conclusione molto valida ripeto di una storia assolutamente all'altezza bella gente il video termina qui mi auguro che la mia opinione è stata di vostro gradimento noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti